Musica Bella a tutti ragazzi qui è giocatore e santa e ben ritrovati nel mio primo canale Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo video e con un video che potrebbe in realtà essere una serie di video Perché? Come avete visto al titolo siamo qui con una sfida molto particolare Perché andremo a giocare tutta la carriera di Kvaraskelia con l'obiettivo di fargli vincere il pallone d'oro Come faremo a fare questo? Siamo con il Napoli, faremo la carriera con il Napoli ma seguiremo Kvaraskelia dovunque lui andrà Per esempio tra due anni offerta del Real Madrid per Kvaraskelia noi accettiamo perché è giusto che sia così E poi andiamo ad allenare il Real Madrid seguendo quindi Kvaraskelia nel suo percorso di crescita Secondo me potrebbe anche essere una cosa abbastanza interessante che possiamo replicare anche per altri calciatori Infatti prima di iniziare con il video io vi chiedo subito un bel mi piace se quest'idea vi piace E qui sotto nei commenti fatemi sapere il prossimo calciatore da seguire per tutta quanta la sua carriera Qui nello schermo vi metto delle statistiche molto importanti che andremo a seguire e andremo ad aggiornare di anno in anno Come potete vedere ci sono i gol e gli assist ma ci sono anche tutti quanti i trofei Vediamo per quanti anni riusciamo ad andare avanti Mi piacerebbe fare 10 stagioni però purtroppo sapete benissimo che non dipende da noi Possiamo magari essere esonerati oppure magari Kvaraskelia potrebbe prendere una strada diversa Ad esempio vincere pallone d'oro 8 Champions League subito dopo 4-5 anni E quindi è giusto poi fermarci perché abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare Non c'è un limite di tempo vediamo quello che riusciamo a fare Non perdiamo tempo e iniziamo perché ci sono tante cose da fare Ovviamente vi farò vedere solo le cose principali di ogni stagione perché altrimenti ci mettiamo troppo tempo Per quanto riguarda invece il calciomercato noi comunque lo faremo Però ovviamente non cerchiamo di fare proprio tutto 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 Cerchiamo di migliorare la squadra però sapendo che poi tra due anni ovviamente la possiamo tranquillamente lasciare Ad esempio questo è il Napoli di partenza che noi ormai conosciamo molto bene Con il nostro Kvaraskelia eccolo qui che deve subito signori diventare una D Perché? Perché sfrutteremo il baguettino per farlo crescere più velocemente Anche perché scusate se mi permetto Kvaraskelia 79 secondo me non si può vedere Quest'anno sta facendo veramente delle cose incredibili quindi per me per me l'anno prossimo deve almeno almeno essere un 83 Siete d'accordo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Comunque piano di crescita inserito e adesso iniziamo subito a migliorare questa squadra Andando a spendere tutto il budget che abbiamo a disposizione 65 milioni Io direi di fare solo un colpettino per ogni sessione di mercato Ci mettiamo questa regola per poter poi ovviamente riuscire a fare più stagioni all'interno dello stesso episodio Per quanto riguarda il modulo io direi di cambiarlo Direi di cambiarlo perché c'è Zielinski che è un trequartista E visto che possiamo fare solo un acquisto io direi appunto di utilizzare Zielinski sulla trequarti Di conseguenza utilizziamo il 4-3-3 offensivo quello che ha un trequartista e due centrocampisti centrali Eccolo qui con Kvaraskelia a sinistra, Ozyman al centro, Politano o Lozano a destra Adesso vediamo quali utilizzare, Zielinski qui, Lobotka confermato E poi c'è Anguissa che è un CDC che può diventare un centrocampista centrale Non lo so, bisogna controllare, adesso ci andiamo a guardare Per quanto riguarda invece una difesa, i migliori sono questi qui Il colpettino dove va fatto? Non lo so Vediamo se Anguissa riesce a diventare un centrocampista centrale Se ce la fa bene, altrimenti il colpettino lo facciamo a centrocamp Ci mette 40 settimane per diventare un centrocampista centrale Ma se non erro ci mette pochissimo tempo per diventare un difensore centrale Però cerchiamo comunque di seguire il Napoli della realtà Potremo tranquillamente trasformare Anguissa, però voglio giocare con Kim e con Rachmani Quindi cosa facciamo con Anguissa? Lo mettiamo come contropartita per prendere un centrocampista più forte Ho individuato il centrocampista centrale, Rodrigo Bentancur del Tottenham 25 anni, bisogna fare un grande investimento su di lui Non so se riusciamo a prenderlo perché ha un valore di 40-45 milioni Io provo comunque a mettere il portiere come contropartita Per sapere più o meno il prezzo che ci fanno Vogliono Elmas, vogliono Elmas che è perfetto per la panchina Però più o meno sappiamo che costa circa 60 milioni Quindi togliamo Elmas, mettiamo come contropartita ovviamente il nostro Anguissa Che vale 34 milioni e quindi più o meno siamo lì Quindi possiamo scambiare Anguissa con Elmas Vediamo cosa ci dicono, ci dicono che va bene Perfetto, ci siamo liberati di Anguissa E abbiamo preso un ottimo centrocampista centrale Molto bene, ho fatto tutto quello che dovevo fare Ho controllato piani di crescita, clasole rescissorie, contratti scadenza Ho fatto tutto, questa qui quindi alla squadra Questo qui è il Napoli della prima stagione Non ci resta quindi che simulare e poi vedere le statistiche di Kvaraskelia E vedere poi anche ovviamente eventuali offerte di trasferimento Ovviamente non prenderò in considerazione le offerte di trasferimento Che potrebbero arrivare in questi giorni Perché Kvaraskelia almeno un anno nel Napoli se lo deve fare È appena arrivato, quindi non ha senso lasciarlo partire adesso Almeno una stagione la facciamo qui Avanziamo e vediamo quello che Kvaraskelia e il Napoli riesce a fare Siamo appena arrivati alla fine della stagione 31 maggio 2023 Andiamo subito a vedere quello che abbiamo fatto Barretta ragione in alto a sinistra, questo non è un buon segno Questa è quella squadra con Lozano che non ha giocato forse perché è cresciuto di più Politano Complimenti a Politano, GG 83 Il nostro Kvaraskelia 86 Mamma mia che crescita incredibile Osimeno 88, Zilicchi 84, Bentancuro 85 La squadra comunque sta crescendo Ma perché abbiamo fatto così schifo? Perché c'è la barretta arancione? Andiamo subito a controllare la classifica Siamo arrivati quinti! Non abbiamo centrato la qualificazione alla Champions League No, porca di quella miseria E per quanto riguarda invece la Champions Vince l'Ipsi ai rigori Vediamo cosa abbiamo fatto Non abbiamo, madonna che schifo di girone Cos'è sta roba? 18-5-5-5 Ma cos'è sto schifo? Porca di quella miseria Siamo scesi quindi in Europa League E che cosa abbiamo combinato in Europa League? Vince il Bruges In Europa League abbiamo perso contro la Roma Agli ottavi di finale Madonna mia che schifo 4-2 totale Per quanto riguarda invece la Coppa Italia Andiamo subito a vedere cosa è successo Ma ovviamente non abbiamo vinto Perché nel mese di maggio non c'era la finale Ha vinto infatti il Milan nei calci di rigore E vediamo un po' Lascoli in semifinale Abbiamo perso con... No ancora con la Roma Basta! Oh ma sta Roma ce l'ha con noi Sempre nel mese dalla Roma 2-0 ai quarti Mamma mia che schifo Vediamo un attimo la brosa Perché sono curioso Anzi sono curioso Bisogna vedere le statistiche di Kvaraschelia Che ha fatto solo 10 reti e 8 assist È cresciuto tantissimo Ma non ha reso Non ha reso ragazzi Così come tutta quanta la squadra Osimen Solo Osimen ha fatto bene Il resto male 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 Anche Raspadori solo 5 gol Zielinski solo 4 gol Lobotka 3 gol 9 assist La squadra non ha fatto bene Ha segnato quasi più petagna Che Kvaraschelia Incredibile Quindi ragazzi Qui nello schermo Vedete le statistiche aggiornate Zero in tutti i trofei Ma 10 reti e 8 assist Alla prima stagione di Kvaraschelia Con la maglia del Napoli A questo punto Io direi di avanzare E occhio perché potrebbe esserci Il primo trasferimento Perché il Napoli Non è arrivato in Champions E uno come Kvaraschelia A parer mio Merita di giocare la Champions League Ancora più adesso Che è un 86 Attenzione signori Perché sono arrivate due offerte Per Kvaraschelia Bayer Monaco E Chelsea Scambio con Enzo Fernandez E offerta del Bayer Monaco Scambio con Goreisca Porca di quella miseriaccia Allora Io devo accettare tutte quante le offerte E quindi cosa facciamo? Accettiamo sia l'offerta Per quanto riguarda Il Bayer Monaco E sia l'offerta del Chelsea Le accettiamo entrambe Facciamo l'accordo Con entrambe le squadre E poi ovviamente Starà a Kvaraschelia A decidere dove andare Se andare in Bundesliga Oppure andare in Premier League Io se fossi in te Andrei in Premier Poi decidi tu E nel frattempo Il Napoli si porta a casa O Goreisca Oppure addirittura Enzo Fernandez Che è stato pagato Un botto dal Chelsea Però evidentemente Ha fatto schifo E quindi è stato subito Spedito altrove In questo caso Al Napoli GG per il Napoli Però perde un grande elemento Prende anche dei soldi importanti E anche Un giocatore importante Molto bene A questo punto Non ci resta che avanzare Di una settimana E vedere E vedere dove va Kvaraschelia Vediamo dove preferisce andare Sono arrivate due mail Kvaraschelia venduto Ha scelto il Chelsea Kvaraschelia ha ascoltato Il mio consiglio Il nostro consiglio E quindi Va in Premier League Al Chelsea E ritrova anche Kulivali Bene Mi piace Bravo Kvara Ottima scelta Adesso arriva la parte Più difficile Signori Ovvero Riuscire ad andare Al Chelsea Ce l'ho fatta Signori Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E è arrivata finalmente L'offerta del Chelsea Come ho fatto Per chi se lo stesse chiedendo Ho fatto tutti quanti Gli obiettivi Così Il punteggio fiducia Del Napoli Della società del Napoli I nostri confronti È aumentato Di conseguenza Poi ho controllato le offerte E mi è arrivata L'offerta del Chelsea L'unico problema E che mi è arrivata Il 18 ottobre 2023 Quindi purtroppo Non riusciamo a fare Il calciomercato Ma ovviamente Ci fermiamo a gennaio Per poter fare Il calciomercato invernale Questo è il piano Accettiamo quindi L'offerta del Chelsea E andiamo subito A vedere la squadra Vado Cos'è sto schifo Cos'è sto schifo Porca miseria Tony Klaus Allora Fatemi aggiustare un po' La formazione Kulivali Tia Gosilva C'è Fopanà Bisogna subito Prendere un difensore centrale Ma c'è Pulisic qua Porca di quella vaga Allora Facciamo una cosa A destra c'è qualcuno Vediamo un po' Chi c'è No c'è Sterling Madonna mia Ma perché hanno preso Cavaraschella Se sono messi benissimo Allora io direi di C'è anche Avers Non c'è una punta C'è Lukaku Ma che cavolo di squadra Hanno messo in campo Allora Io direi di mettere Pulisic Vabbè di sicuro Mettiamo la S E di sicuro Mettiamo di D Sicuro mettiamo la D Pulisic è troppo importante Quindi va a destra Pulisic Con Cavaraschella Che gioca a sinistra Che è 89 ragazzi Cavaraschella è 89 Ma che cosa gli sta andando E Kulibaly Quindi confermato Con James a destra Ovviamente confermato A sinistra c'è Kukureya Che dovrebbe fare L'upgrade da S A Però c'è pure Chewell Che però ha un anno in più Ma è già un 83 Però È già un 84 Ma anche Cavaraschella Anche Kukureya Dovrebbe fare l'upgrade Allora questa qui è la situazione Io però devo far giocare Kvara Ma Kvara gioca di sicuro Perché è il più forte A S In circolazione Quindi al massimo Sterling lo mettono a destra Ok Questo è il Chelsea ragazzi Questo è il Chelsea Sono contento di essere comunque qui Voglio vedere il budget Perché abbiamo la bellezza Di 175 milioni Che investiremo poi Nel mercato Di gennaio Devo però assolutamente Controllare i piani di crescita Perché Cavaraschella Deve assolutamente Avere il piano di crescita Che gli permette Di diventare una D Controllo anche rapidamente Tutti quanti i piani di crescita Di tutti quanti i giocatori Perché ovviamente Dobbiamo ottimizzare Tutti quanti i risultati E noi ci vediamo Direttamente all'inizio Del calcio Mercato Di gennaio Dove cercheremo Di aumentare Il livello Della squadra Siamo arrivati Proprio adesso Al primo gennaio 2024 Forma eccellente Addirittura Stiamo facendo Paville I nostri accorgimenti Tattici Stanno funzionando Bene Per quanto riguarda Cavaraschella Attenzione Infortunio per Tony Cross Cavaraschella 89 Quindi purtroppo Non è cresciuto Adesso abbiamo un budget Di 200 milioni Per intervenire sul mercato Allora Vi ricordo una cosa Molto importante Ovvero che possiamo fare Solo un acquisto Per ogni sessione Di calcio mercato Quindi in questo caso Possiamo spendere Tutti i soldi Solo per comprare Un giocatore Tony Cross Si è fatto male Però al centrocampo Siamo messi E insomma C'è Gallagher 81 Voglio vedere un attimo Come è messo Tony Cross A livello di infortunio Potrebbe essere un infortunio Molto leggero Anche se non sembra Controlliamo Sette settimane La si è fatturato Il giro del piede Va bene Allora Allora direi di continuare Con il nostro progetto Ovvero andando A rinforzare la difesa Abbiamo bisogno Di un grande Difensore centrale E quindi signori Visto che dobbiamo fare Solo un acquisto Andiamo sul miglior Difensore centrale Della Premier League Miglior difensore centrale Forse anche Del mondo Su questo gioco 90 di overall 26 anni Giocatore veramente Molto 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 Importante Che strappiamo anche Alla nostra concorrente Per il titolo Proviamo con 140 milioni Visto che Guardiola È uno difficile Con cui trattare 189 praticamente Tutto quanto il budget Proviamo con 169 Più Clasolo Del 15 mila per cento Più mia nonna E neanche la nonna Funziona Accettiamo perché La tensione al massimo Neanche la nonna Funziona contro Guardiola Si vede ragazzi Che è veramente Difficile trattare Con lui Però Noi siamo forti Siamo bravi E quindi siamo riusciti Comunque A strappare Il difensore centrale Che ci deve dare una mano Per vincere praticamente Tutto Avete visto gli obiettivi Dopo ve li faccio Rivedere di nuovo Se non ve li ricordate Vittora della Champions Vittora del campionato Vittora delle FK Quindi bisogna fare Veramente una grande squadra Molto bene Ruben Dias Acquistato Adesso non ci resta Che metterlo in campo Siamo ancora su eccellente Molto molto bene Forse stiamo andando Benissimo a livello Di campionato Ora andiamo a controllare Togliamo Thiago Silva Quindi e mettiamo Ruben Dias Che diventa titolare Cucureia è scontento Perché mi sa che sta giocando Ciguel Che era più forte di lui Dove sta Ciguel Se ne è scappato Ma quanta gente c'è Porca di quella miseria Dove sta Ciguel Eccolo qui Sta giocando lui Che è 85 E beh ragazzi Mi dispiace per Cucureia Però lui sta crescendo Quindi mettiamo Ciguel Volevo dare un'occhiata Un attimo Alla classifica Per vedere un po' Come siamo messi A metà stagione Abbiamo intratato Esivi di finale Di FA Cup Che non ci interessano Vediamo subito Siamo privi Con 42 punti Bene Molto molto bene E in Champions League Siamo agli ottavi Contro il Milan E non sarà facile ragazzi Non sarà facile Battere il Milan Su questo gioco Il Milan Nella simulata soprattutto È molto 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 forte L'obiettivo è vincere tutto Siamo passati secondi Nel girone Ecco perché abbiamo avuto Un sorteggio difficile Va bene Va bene Allora io conto Un attimo i piani di crescere Di tutti quanti i giocatori Perché bisogna ottimizzare Ovviamente la crescita Appunto Di tutti quanti i nostri fenomeni E ci vediamo direttamente Quindi Alla fine Della stagione Tiriamo le somme Poi per quanto riguarda Kvarascheli Siamo arrivati alla fine Della seconda stagione Fine maggio 2024 Allora ho visto parecchie vittorie Però purtroppo In semifinale Di Champions Siamo stati fatti fuori Dallo United Abbiamo passato il turno Con il Milan Passato il turno Con l'Atletico Però purtroppo Non siamo riusciti Ad arrivare in finale La barra in alto a sinistra È Arancione Va bene Finché Arancione Sono contento E vinciamo La Premier League Per un solo punto Mamma mia Che campionato Quattro punti In quattro punti Ci sono quattro squadre Incredibile 71 per il Serie 73 Liverpool 74 United 75 Per Super Kvarascheli Che arriva a 90 Di overall Molto 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 bene Guardiamo subito Le statistiche Del nostro fenomeno Perché Ha realizzato la bellezza Di 19 reti Molto bene ragazzi Molto bene Quindi dati a schermo Perché Abbiamo vinto Quindi il campionato Quindi un campionato Abbiamo fatto 19 gol E 7 assist Quindi vedete Il numero Dei gol E degli assist Aggiornato Per quanto riguarda Invece l'FA Cup Non ho controllato Perché Purtroppo Abbiamo perso In semifinale Niente Niente ragazzi Abbiamo perso Con il Liverpool Ok Quindi Vediamo anche La Carabao Cup Per sicurezza Vediamo Niente Persa anche la Carabao Cup Va bene Ok Non importa Quindi le statistiche Le avete viste Un secondo fa Sono quelle aggiornate Con il primo trofeo Molto importante Della Premier League Però Niente Coppa E niente di niente Io sono comunque Soddisfatto Della crescita Di Cavaraschelia Che è già Un 90 Alla fine Della seconda stagione Molto bene A questo punto Non ci resta che avanzare Io direi che Il percorso Di crescita Di Cavaraschelia Al Chelsea Può assolutamente Continuare Con il Napoli Ovviamente Non abbiamo fatto bene Meritava un salto Di qualità E quindi L'abbiamo fatto Adesso Secondo me Visto anche Il livello Della squadra Possiamo continuare Con il Chelsea Terza stagione Appena iniziata Con Cavaraschelia Che non è stato Convocato in nazionale E purtroppo Signori L'unico punto Debole di Cavaraschelia È una nazionale Non alla sua altezza E vabbè Non fa niente Per quanto riguarda Il budget Abbiamo 264 milioni E questa qui È la squadretta Vi ricordo Che possiamo fare Un solo acquisto Per ogni sessione Di mercato Quindi O cambiamo Il centrocampista Centrale Oppure Cambiamo la punta A centrocampo C'è comunque Lufthuchek 78 C'era anche Gallagher Avevo visto C'è pure Skriniar Ma dove è uscito Ma dove è uscito Skriniar Ma io ho comprato Ruben Dias C'era Skriniar Ma porca di quella misera Non l'avevo visto Non l'avevo visto Skriniar Vabbè Cullibali Tra una tre anni Sta calando Skriniar invece Ne ha 29 Quindi a questo punto Subentra Skriniar Comunque A centrocampo Ma qui sbucano i calciatori Come se niente fosse A centrocampo C'è Gallagher Che è 82 Io direi di cambiare la punta Per me la punta È troppo importante Per me la punta È più importante Del centrocampista centrale Che magari possiamo cambiare Nella prossima stagione Anche Cantista calando È un 87 Però è comunque Ancora un 87 Io direi di cambiare Lukaku E a questo punto Visto che non ci sono Limitazioni di nulla Se non fare solo un acquisto Andiamo sulla miglior punta In circolazione Haaland No Petà No un bappé Andiamo su un bappé ragazzi Perché non voglio di nuovo Strappare un pezzo al City Voglio strappare un pezzo al PSG È uno dei migliori al mondo Vale 224 milioni Vediamo se riusciamo a prenderlo Perché forse costa tanto Mettiamo come contropartita Il grandissimo Lukaku Che ne vale 72 No ce la facciamo ragazzi Ce la facciamo e come Ne metto Non so metto 190 100 Che sto combinando Mettiamo 190 190 più Più Lukaku Cosa ci dicono 258 più Lukaku E accettiamo Dai va bene così Va bene così ragazzi Va bene così Piazzato Lukaku E preso Kilian Boppe Che ovviamente Signori Formerà Una coppia Strabiliante Insieme A Cavarascheria Bene 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 Sono contento Anche perché qui signori Non possiamo scherzare Oddio Non è andato Lo stipendio non lo posso fare Porca vacca Ho sbagliato Ma secondo me Se tolgo tutti i bonus E gli do poi tutto Sull'ingaggio Accetta eh 280 di stipendio Vediamo se accette 280 Vuole 360 Hai capito Stombo a pe Hai capito Stombo a pe Ragazzi Ho provato Ho provato Ho provato con 300 Mi hanno detto Di no 310 Quindi accetto 310 milioni Per Mbappé Porca di quella vacca Quanto l'abbiamo pagato Non posso più mettere Lukaku come contropartita Perché Lukaku È uno di quei giocatori Che sono riuscito A vendere a parte Adesso Sì Che possiamo fare Questo schifo Di contratto Per Mbappé E gli do 400.000 A settimana Mamma mia Contratto Faraonico Per Kilian E adesso Sì Adesso Sì Che la squadra Può vincere La Champions Adesso Sì Che possiamo Vincere Tutti Molto bene Tutto fatto Ho fatto Ogni cosa Ho controllato Piene di crescita Clasore Recissorio Ho controllato Tutto L'unica cosa Che mi spaventa È Tony Cross Sono comunque Riuscito a fare Tutti quanti gli obiettivi Anche quello Relativo all'età media Quello relativo Al centrocampista Per il vivaio Ho fatto Ogni cosa Tra l'altro Cosa molto Molto importante Prima di simulare Vi voglio far vedere Che abbiamo vinto 5 a 0 Una finale Eccola qui Con il Wolverhampton E questa quindi La considererei Una supercoppa Giusto Perché la vincente Tra Premier League E FA Cup Può essere Non lo so Se mi sbaglio Chiedo scusa Però è comunque Un titolo E di conseguenza Verrà contato Lo conteremo poi Alla fine della stagione Quando poi Tireremo le somme Con tutte quante Le altre competizioni Non ci resta che avanzare Simulare E occhio ragazzi Perché secondo me Abbiamo la squadra Per vincere Tutto Andiamo Siamo arrivati alla fine Della terza stagione Tante vittorie Vedo però una sconfitta In Coppa Con il Manchester City E soprattutto Non vedo la Champions Vediamo un po' Dove cavolo abbiamo perso Abbiamo perso Ai quarti Contro il Manchester City La Roma Era Diciamo Non lo so L'incubo del Napoli Il Manchester City E l'incubo del Chelsea Verifichiamo Che cosa ho complicato Che cosa ho combinato Verifichiamo in alta sinistra La barra è arancione Ok Questo mi sa Che è perché Abbiamo vinto il campionato E infatti Così Ancora di un punto Ancora di un punto La spuntiamo noi Sul Manchester City Un duello Incredibile Dovevo prendere Haaland Non va bene Comunque Altro titolo vinto Adesso aggiorniamo le statistiche Tony Cross È calato un botto Infatti mi sa che non sta neanche giocando Eppure è scontento Sta giocando Gallagher 84 Comunque un grande giocatore Va bene 96 Ma soprattutto Ragazzi Soprattutto Kvaraskelia 92 Porca di quella miseria Che giocatore Incredibile Sta crescendo Troppo troppo bene E sono contento Andiamo subito A vedere le statistiche Perché Kvaraskelia Ha contribuito A tutti i successi Del Chelsea Verifichiamo subito 40 per Mbappé 21 Reti Per Kvaraskelia Bene ragazzi Bene 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 21 reti Al pari di Avers E 10 assist Invece Kylian Mbappé Il dominatore Assoluto 40 gol Di cui 27 In Premier League 6 in Champions League 40 e 14 assist In totale Sono stra 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 contento Facciamo un recap di tutto Così aggiorniamo anche le statistiche a schermo Abbiamo vinto quindi Di nuovo La Premier League Quindi sono due campionati Per quanto riguarda La Coppa Io la conterei come Super Coppa Questa Community Shield Super Coppa Direi di sì E dopo aggiorniamo le statistiche E fake up Mi sa che abbiamo perso Con il Manchester City Tra due in finale Carabao Cup Vediamo Vince il Manchester City Perfetto La Super Coppa Non ci riguarda Vince il City Col Napoli Vince il City Col Napoli Ma che cavolo E in Champions League Siamo andati Fu appunto Col Manchester City Che si porterà a casa A quanto pare Anche la Champions League Perché c'è il Bayern Leverkusen In finale Comunque Statistiche Aggiornate Qui a schermo Gol Assist E tutti i trofei vinti Da Kvarascheria Allora Io direi che Possiamo fare tranquillamente Un ultimo anno Al Chelsea Perché E' giunto il momento Di raccogliere La Champions League Voglio fare un grande colpo A centrocampo Prendere un centrocampista E forse Ce ne servirebbero due Dovremmo cambiare pure Kanté E allora mi sa che Teniamo Gallagher Perché possiamo fare Solo un acquisto Per ogni sessione di mercato Va bene Avanziamo ragazzi Avanziamo E ci vediamo All'inizio Della quarta stagione Se non erro Sì quarta stagione Ho perso il conto Sì quarta stagione Ancora con il Chelsea Ultimo anno con il Chelsea Poi Indipendentemente Dalla vittoria Della Champions Cambieremo aria E magari Proveremo La Liga Mi piacerebbe vedere Quara A Real Madrid Con Ancelotti Vediamo Quarta stagione Appena iniziata Verifichiamo subito Il budget 332 milioni Possiamo prendere Praticamente Il centrocampista Più forte Di tutto quanto il gioco Voglio vedere Pedri Però ci serve un CDC E' vero Non ci serve un centrocampista Ci serve un CDC E allora si cambia obiettivo Si cambia obiettivo E si va Su Kimmich CDC Fortissimo Valore 100 milioni Crasola Di 170 Che ovviamente Non paghiamo Voglio mettere Come contropartita Qualche nostro centrocampista Come ad esempio Kanté Che potrebbe anche accettare Il ruolo Turnover Ma soprattutto Tony Cross Che potrebbe tornare Al Bayern Monaco E' molto scontento Vuole andare via E quindi lo possiamo Tranquillamente cedere Proprio con 120 milioni Più il cartello Di Tony Cross Ci dicono che va bene così Perfetto Ovviamente questa regola Di fare solo un acquisto Per ogni sessione di mercato E' una regola importante Che ci rende le cose Un po' più complicate Perché avete visto Che abbiamo 222 milioni Di budget E tra l'altro Non so se avete notato Ma abbiamo comunque Una rosa lunghissima E quindi vendendo Tutti quanti gli esuberi Avremo tipo un budget Di 600 milioni E quindi davvero Ci prendiamo Donnarumma Kimi Mbappé Haaland E quindi ho fatto Questa regola Per rendere le cose Anche un po' più veloci E anche un po' più complicate Perfetto A questo punto Non ci resta che mettere Kimi in campo Togliere Kante Che ha rinnovato il contratto E addirittura Accettato loro lo turnover Quindi meglio di così Non ci poteva andare Questa qui quindi E' la squadretta E io direi signori Che siamo pronti Per vincere Tutto Ho controllato come al solito Piani di crescita Ho cercato di fare gli obiettivi Per un essere esonerato Speriamo quindi Di riuscire ad arrivare Alla fine di questa stagione Senza un esonero Anche perché Abbiamo l'obiettivo Di vincere Ogni competizione Possibile Occhio perché C'è una finale Contro il Manchester City Niente spoiler Niente spoiler Ci vediamo Alla fine del mese di mangio Poi ritorniamo indietro E guardiamo tutto Ultima stagione Con il Chelsea Andiamo Signori Attenzione Attenzione Perché siamo Alla fine Della stagione Abbiamo la finale Di Champions Indovinate Contro chi? Contro il Manchester Manchester City Sempre il City Sempre guardiola di mezzo Vediamo un po' Non mi ricordo Se ho sicurato Fino al 3 No 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 Infatti mi sono fermato Al 30 Allora andiamo al 31 Ragazzi Andiamo al 31 Perché Cavalaschiella Potrebbe vincere La prima Champions League Della sua carriera Vediamo 3 a 0 secco Madonna 3 a 0 secco Col City Comunque la barretta È verde Madonna che delusione È verde Nonostante Io abbia perso Tutto Ho perso la finale Secondo posto In campionato E semi finale VFA Cup Porca di quella miseria Come facciamo ad essere ancora qui in piedi Con il coso verde Pazzesco Vince il Manchester City Mi sono proprio rotto Di sto City La Community Shield L'abbiamo vinta Almeno Sì Abbiamo vinto la Community Shield Almeno un trofeo L'abbiamo portato a casa Vediamo la Carabao Manca solo la Carabao Cup Perché non esce all'interno degli obiettivi Abbiamo vinto 4 a 3 Perfetto ragazzi Perfetto Perfetto Quindi tra pochi istanti Andremo ad aggiornare Andremo ad aggiornare anche le statistiche Di Cavalaschiella Vediamo però anche i gol Perché Cavalaschiella ne fa 26 Ancora Mbappé che domina Con 44 gol E 15 assist Ma non interessa Questo numerino qui Anzi Questi numeri 24 e 15 Questo è lo schermo Quindi vi metto le statistiche aggiornate Con i gol Gli assist E i trofei Vinti di Cavalaschiella Peccato Peccato davvero Per la Champions 3 a 0 3 a 0 secco Mamma mia Che sconfitta E allora direi che dopo questa bruttissima sconfitta È giunto il momento Per Cavalaschiella Di lasciare il Chelsea E di andare altrove Voglio fare una cosa Voglio metterlo Già sul mercato Perché ho notato Che praticamente Nei primi anni Di ogni stagione Non arriva praticamente Mai un'offerta Quindi se riuscissimo A vendere Cavalaschiella Adesso Potremmo cambiare squadra Adesso Così poi ci facciamo subito Il calcio mercato Nella nuova squadra Vediamo un po' Se funziona Avanziamo Perché qui verso Verso giugno Praticamente possiamo andare Dove vogliamo Soprattutto se lì in alto Se lì in alto a sinistra La barretta è verde Giocatore ristabilito Il Barça Offerta del Real Madrid È arrivata ragazzi Quando io stavo simulando E quindi purtroppo Non potevo accettarla Non potevo neanche Vederla E allora Si accetta L'offerta Del Barça Mi piace questo cammino E come se mi piace Porca vacca Allora Accettato il Barcellona Vediamo se Cavara Trova l'accordo Dovremmo scoprirlo Adesso Così poi abbiamo Qualche giorno Per poter cambiare squadra Vediamo Controlliamo di nuovo Le email Cavara Schelia Al Barça Accettato No ci sta ancora pensando Sì Ci sta ancora pensando Cavolo è un bel trasferimento Il Barça Cavara Visto che tu ascolti sempre I nostri consigli Io ti consiglio di cambiare Ti consiglio di accettare Ti consiglio di andare in liga Vediamo Cavara Schelia Venduto Ha ascoltato il nostro consiglio E quindi Cavara Va al Barça Vediamo negli incarichi Se c'è il Barcellona Penso di sì Eccolo qua Barcellona Subito Il secondo Sembra fatto apposta Preso il Barça Vediamo Si accettano E non so Si accettano Perché Boh Quando il Chelsea Accettato Era eccellente Vediamo Ancora non è arrivato nulla Adesso la barretta È solo verde Quasi praticamente Sul Sull'arancione Quindi potrebbero dire di no Vediamo 7 email Vediamo un po' Hanno accettato E quindi ragazzi Voliamo Al Barcellona E seguiamo Cavara Schelia Nella sua carriera Incredibile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.